Ritorna a Castellammare del Golfo dopo alcuni anni il Carnevale, grazie anche alla collaborazione della Proloco e delle scuole di ballo. Quest'anno abbiamo sentito proprio da più parti la voglia e la volontà di ritornare ad avere un Carnevale anche a Castellammare sentito. E quindi ci siamo attivati senza avere chiaramente la presunzione di fare un Carnevale, che comunque è sempre abbastanza complesso da organizzare. Non abbiamo la presunzione di fare un Carnevale ad altissimi livelli, ma abbiamo più che altro l'esigenza di riportare un attimino di serenità, di gioia a Castellammare, tra le vie di Castellammare. In questo ci siamo appoggiati alle associazioni, alla Proloco. E la cosa bella, devo dire, di questo Carnevale è che oltre che la presenza dei carri, che saranno fatti sicuramente con tanto amore, con tanta fatica da parte di chi li andrà a realizzare, noi vogliamo anche dare un momento di gioia e di accoglimento. Per cui in questo ragionamento abbiamo previsto anche delle degustazioni assolutamente gratuite, per cui invitiamo la cittadinanza, ma non solo la cittadinanza, ma anche i residenti in altri comuni vicini a venirci a trovare, anche perché potranno degustare, ripeto, gratuitamente dei prodotti locali. E questo chiaramente sarà motivo anche di gioia, di confronto da parte dei cittadini, non solo da parte dei nostri concittadini. I carri sfileranno domenica 3 marzo e martedì 5 marzo dalle ore 16 e 30, accompagnati dai battiti dei tamburi siciliani. Seguiranno la sera le degustazioni gratuite di dolci tipici siciliani e del pane con la salsiccia. E per i bambini, lunedì 4 marzo dalle ore 16, giochi e balli in maschera.